Una volta finiti i 12 fotogrammi, nel mio caso, cominciamo a vedere delle scritte e man mano che giudiamo la pellicola non vediamo più i numeri. Adesso che non vediamo più niente il rullino è completamente da questo lato. Quindi delicatamente apriamo lo sportellino, è completamente raccolto da questo lato, spingendo dal centro, così l'abbiamo già tolta, e spilare in ruine. Lui sta già chiuso di suo, per sicurezza, visto che il rischio è curio di bruciare tutte le nostre preziose foto, con un pezzetto di carta, ecco, magari un po' più generoso del mio, ecco, lo sigilliamo. A sinistra vi rimarrà la carcassa del rullino. Non va buttato, va inserito di nuovo a destra, perché servirà per rianfallgere la prossima pellicola da 120 mm. Dunque, io spero tantissimo che questo video vi sia stato in qualche modo d'aiuto. Se così fosse, iscrivetevi al canale per dei video del genere che possano aiutarti con la vostra Diana, eccetera. Ciao a tutti e al prossimo video!